uomini e donne giorgio manetti e gemma galgani di nuovo insieme in televisione la proposta del cavaliere e torniamo adesso a parlarvi dello storico cavaliere del trono over giorgio manetti che di tanto e tanto torna a fare discutere ovviamente sempre in abbinamento con una illustre ex ossia gemma galgani questa volta diciamo pure che c'è un'eccezione infatti se in genere il tutto era legato a critiche con la dama gemma galgani questa volta i due tornano a fare parlare perché c'è un possibile progetto televisivo insieme ricordiamo che giorgio manetti è uno dei cavalieri storici del programma uomini e donne ed in particolare del trono over conosciuto per la sua storia intensa con gemma galgani che per anni ha fatto sognare il pubblico di maria de filippi almeno fino a quando non lesse la lettera in prima serata su canale 5 spezzando il cuore della dama gemma galgani nel corso degli anni successivi il cavaliere fiorentino è tornato spesso a stuzzicare la dama piemontese tutto questo fino all'altro ieri quando sul quotidiano nuovo tv si è lasciato andare a questa interessante confessione mi farebbe piacere coinvolgere gemma lavorare insieme sarebbe bellissimo gemma dovrebbe pensare a una vita più tranquilla ha ottenuto tantissima popolarità e chi la corteggia vuole solo sfruttare la sua immagine quindi giorgio manetti si sta proponendo per lavorare nel ruolo di co conduttore per un nuovo programma in televisione con la sua ex dama storica ora bisogna però vedere come avrà reagito lei a questo messaggio che crediamo non si aspettasse ovviamente progetto che darebbe modo ai fans di uomini e donne di rivederli insieme in televisione e chissà che fra di loro dimenticando il passato non privo di spine possa riaccendersi la fiamma dell'amore grazie a tutti grazie a tutti